La presenza di Salvatore Maccarone è stata il momento clou dell'udienza sul Crac Etruria che è in svolgimento nella Sala dei Grandi in provincia. Personaggio di primo piano del panorama bancario nazionale Maccarone è il presidente del Fondo Interbancario Depositi. È stato l'avvocato Pellizzari a chiedere i maggiori chiarimenti con un solo quesito. La banca poteva essere salvata? All'uscita questo il breve commento del diretto interessato. L'intervento consisteva in un contributo al capitale della banca, un aumento di capitale riservato al fondo con una partecipazione anche degli obbligazioni subordinati che avrebbero visto le obbligazioni convertite in azioni e quindi una dotazione patrimoniale che in quel momento era indispensabile perché c'era un deficit di un po' più di 15 milioni mi pare. Il processo si è bloccato per effetto della posizione assunta dalla Commissione europea. Tra i test sentiti anche l'ex vice direttore Paolo Schiatti che alla fine della prima decade del 2000 era il segretario del CDA di via Calamandrei. Schiatti ha spiegato nel dettaglio qual era il suo ruolo, le modalità delle procedure per i finanziamenti. Non si è presentata invece Anna Maria Nocentini per motivazioni che non sono state accolte dal presidente Fruganti. Per lei l'obbligo di presenza accompagnata dai carabinieri domani. Assente anche l'ex vice presidente Pierluigi Boschi, la difesa ha rinunciato alla presenza in aula.